Pazienti a rischio Questi pazienti sono veri e propri malati, malati di obesità e che rischiano patologie più gravi, perlomeno sulla carta, che l'ipertensione, il diabete, l'infarto, l'ictus e anche i tumori, patologie che possono essere prevenute prevenendo il rischio di obesità Professore, ma è vero ed è giusto affermare che la fascia di età più a rischio oggi sono i giovani? Non sono più a rischio ma sono coloro sui quali si deve svolgere l'azione di prevenzione perché i giovani, gli adolescenti tra i 6 e gli 11 anni hanno adesso una percentuale di obesità che è identica a quella degli Stati Uniti dove c'è il boom dell'obesità purtroppo Questi giovani sono coloro che se continuano questo trend diventeranno obesi da adulti ed è su questi che si deve svolgere soprattutto l'azione di educazione e di prevenzione Allora, la campagna ha l'obiettivo di testare il polso di circa 10.000 cittadini in Italia sulla problematica del sovrappeso e dell'obesità Inizia dalla capitale da Roma il 13 e 14 febbraio e si concluderà a Cagliari in giugno e toccherà circa 50 città italiane Metteremo in campo oltre 200 medici, 50 ambulatori mobili, 50 infermieri e saranno realizzate oltre 10.000 indagini dal punto di vista laboratoristico per poter rilevare lo stato di salute in relazione al sovrappeso e all'obesità di 10.000 cittadini Ci si potrà rivolgere per ottenere delle maggiori informazioni circa questa campagna, dai peso al peso, cui ringrazio la collaborazione effettiva dell'Istituto Superiore di Sanità della IRCS San Raffaele Lapisana Ad un numero verde che è l'800 92 88 92 attraverso il quale si potranno ottenere tutte le informazioni circa questa iniziativa e anche il calendario dove ci saranno le visite presso le Hyperpop Grazie Per parlare di malattia è necessario che si dimostri la presenza di un organo ammalato Primo concetto un organo, si parla normalmente del grasso, in realtà il grasso forma un vero e proprio organo come tutti gli altri organi del nostro cloninino come il fegato, come il rene Quest'organo è formato da diverse componenti, da diversi tipi cellulari, gli adipociti bianchi e gli adipociti bruni Questi ultimi per esempio sono una componente molto interessante perché queste cellule usano il grasso per produrre calore Cioè sciolgono il grasso e queste cellule sono presenti anche nell'uomo e specie nell'uomo giovane e rappresentano una possibilità di sviluppo per quello che riguarda il futuro della terapia dell'obesità L'altro tipo cellulare, l'adipocita bianco, quello che è più noto, quello a cui noi pensiamo quando pensiamo al grasso è formato da cellule che hanno una forma sferica Questa forma deriva dal fatto che questa è la forma ideale per poter accumulare queste molecole altamente energetiche del grasso Queste cellule, quando noi diventiamo troppo grassi, si rigonfiano come dei palloncini e giunto ad un certo limite, superato questo limite, scocchiano e muoiono Queste cellule morte richiamano dal sangue cellule infiammatorie che infiammano l'organo adiposo Ecco quindi che noi abbiamo un organo infiammato e quindi un organo malato e possiamo parlare di vera e propria malattia che c'è alla base dell'obesità Grazie a tutti